Bentornati sul canale giornalismo del cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Naufrago si sente male durante la diretta, paura all'isola dei famosi Si sta pensando a rimandare il naufrago in Italia, la produzione non vuole responsabilità in merito? Ecco cosa è successo.Naufrago colpito da un malore.Si va avanti con quest'edizione dell'isola dei famosi Con Ilari Blasi e i concorrenti sono sempre di più messe a dura prova Dovranno inoltre resistere un mese in più perché Mediaset ha deciso di spostare la finale prevista per fine maggio a fine giugno Ce la faranno i naufraghi Nello studio di Milano dove va in onda ogni lunedì e venerdì la puntata dell'isola in compagnia della conduttrice Ci sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino nei panni di opinionisti e Alvin che accompagna i concorrenti da Londuras In prove leader, prove ricompense, nomination e tanto altro Durante la diretta di venerdì 29 aprile uno dei naufraghi si è sentito poco bene Un mancamento e la produzione ha deciso di portarlo in infermeria per un controllo medico per sicurezza Si tratta della moglie di Clemente Russo che non è la prima volta che sta poco bene Paura in Honduras, naufrago a un mancamento, ritorno in Italia? Si tratta di Laura Maddaloni, moglie del pugile Clemente Russo Laura già nelle scorse settimane era stata poco bene a causa dei suoi problemi di salute La naufraga soffre di anemia e questo l'ha fatta stare poco bene Tanto da far preoccupare la produzione che ha deciso di darle un ultimatum Laura vuole rimanere sull'isola ma la produzione teme per la sua salute e se non migliorerà in breve tempo dovrà abbandonare il gioco A peggiorare la sua situazione e il malore durante la prova indiretta Si trattava di una prova di ricompensa, dove i naufraghi dovevano rimanere in equilibrio su un'asse Laura Maddaloni, malore, l'isola dei famosi Laura Maddaloni non ce l'ha fatta e si è seduta a causa di un mancamento A spiegare la situazione è stato Alvina, volevo fare una comunicazione Vedete che Clemente ora sta arrivando in Polopo perché Laura ha avuto un mancamento Ora è di là a bere un po' d'acqua e si sta riprendendo, con lei è presente anche il dottore Punto Nel corso della puntata poi Laura non ha potuto affrontare neanche la prova leader È stata una decisione della produzione che non le ha voluto far affrontare la prova apnea dopo aver avuto poche ore prima un mancamento Alvina però rassicurato tutti spiegando che non è molto grave e sta recuperando Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao